La Sala Operativa della Protezione Civile Regionale ha emesso un codice giallo per rischio idrogeologico e temporali forti esteso a tutta la Regione Toscana con validità dalle 12 alle 22 di giovedì 25 maggio. Malgrado il consolidarsi dell'alta pressione, persistono sulla Toscana condizioni di locale instabilità, dicono gli esperti con temporali forti, in particolare nelle aree interne del centro-sud. L'instabilità sarà soprattutto durante il pomeriggio con rovesci e temporali sparsi localmente forti, dicono gli esperti più probabili e frequenti, nelle zone centro-meridionali, possibili anche colpi di vento e grandinate. Le aree che dovrebbero essere maggiormente interessate sono le province di Siena, Arezzo e Firenze. All'indirizzo www.regionetoscana.it slash alerta meteo, ulteriori dettagli e i consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio in cui uno si trova.